Buongiorno, sono Andrea Cecotti, rappresento la Panorama Diffusion, che è il distributore ufficiale per l'Italia dei prodotti Ederid. Siamo in fiera ISPO Monaco 2016 presso Stand Ederid per la presentazione in anteprima mondiale del nuovo prodotto Ederid denominato HOM. HOM, una novità mondiale, è praticamente un dissipatore di energia da utilizzare soprattutto in parete d'arrampicata per le palestre o anche in falesia e va praticamente a eliminare tutte le varie problematiche legate alla differenza di peso fra il capo cordata e il secondo di cordata, soprattutto quando ad arrampicare, a fare lo sport, c'è un uomo come capo cordata e una donna come secondo di cordata. Praticamente è un dissipatore di energia, aumenta l'addrito della corda all'interno del dissipatore e questo fa in modo che il secondo di cordata, in caso di caduta del capo cordata, non possa essere trascinato verso l'alto o addirittura sbattere contro la parete. Naturalmente il prodotto va sempre utilizzato comunque alla prima zona di attacco della catena di sicurezza, di assicurazione. Vantaggio che lascia completa libertà al capo cordata anche di muoversi in arrampicata perché il dissipatore agisce solo ed esclusivamente in caso di caduta del capo cordata. Quindi il capo cordata in salita può muoversi normalmente senza avere in tralcio dal sistema. Vantaggio principale appunto che in caso di caduta il secondo di cordata non viene più trascinato verso l'alto e poi si può lavorare con differenze di peso fra il capo cordata e il secondo di cordata molto più ampie rispetto ai normali sistemi e viene presentato oggi in l'anteprima mondiale qua a Expo 2016.